Oggi ho un look molto clerical chic Raga ho fatto uno scherzo a Fede, domanderanno in onda le iene ma sono stato veramente un pezzo di merda Non pensavo venisse così bene, porco Giuda Allora c'è Fede che mi piglia per il culo perché dice che non riesco a lanciare la mia nuova moda di camicia sulla camicia Quindi mi mandate le foto su Twitter e qui, voi con la camicia sulla camicia Fate vedere a sto stronzetto qui che adesso è di moda e che in Italia non si è indossa altro Com'è? Ti hai detto? No, 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 no Ormai dici molla Molla, molla Che mollo! Non ho lavate i piatti con... Com'è Moreno? Com'è Moreno? Com'è Moreno? Ho cominciato Pure troppo Bella raga, buongiorno Dalla Brianza, qua c'è un sole della Madonna Oltre che un vento della Madonna, oggi che combinate Prima vado in palestra a pompare un po', poi insieme in studio sono cominciate ufficialmente le prove del tour Quindi mega Inoltre dietro le quinte stiamo lavorando a dei progetti nuovi che non mi riguardano direttamente ma coinvolgono anche a me Quindi mi raccomando Stay tuned per quanto riguarda Blocco Records Bella raga Che poi è un'emozza in tutto Che poi è un'emozza in tutto Che poi è un'emozza in tutto Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi.